Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il radarista Cancelletto1, farò la recensione di un film del 1990, volo 243 atterraggio di fortuna. Un aereo di linea si sta dirigendo verso il previsto scalo dell'aeroporto di Onolulu, nelle isole Hawaii, a 7300 metri d'altezza a causa di un improvviso guasto, una parte della fusoliera vola via ed il pilota è costretto a tentare un atterraggio di fortuna. Il mio voto a questo film è 10, ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione della sceneggiatura, è di genere dramma, la durata è 1 ora e 25 minuti, il regista è Dick Loveri, la regia è buona, bravo regista, la data di uscita 11 febbraio 1990, l'attrice è Connie Selecca, brava attrice, nel film anche Wayne Rogers, Randall Patrick, Anna Alicia, George O. Anlon Jr., Jane Daly, Nancy Kwan, James Cromwell, Caitlin Bailey, Will Estes, Peter Fox, Armin Shimmerman, J. Thomas Erta Weir, Patty Toy, Troy Evans, Glenn Cannon, Ray Bumtai, Jeff Fallin, Jack Murdoch, Davide S. Cass Senior, James Grant, Benton, Matt McCoy, Delfin Pacific, Ned Van Zant, Terrence Bessor, Kate Jackson, Saluto, Alessandro Abidone, Kevin, Gigi, Samobrina, Citta, Aliciotola, Marcolp, Mariuccia, Pia, Ilaria, Ilario, Domenico, Leo, Tassoni, Peter, Tim, Bulluni, Ivan Drago, Michele Treggigliani, Favij, Picchiatore, E-Telipin 122, Mr. Bike TV, Il Trio Medusa, Festival, Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, saluto anche Domenico, Leo e Tassoni.